Gravita Buonasera a tutti, solo per presentarla, la poesia monovocalica è una poesia nella quale tutte le parole contengono un solo tipo di vocale, in questo caso la E. Il titolo è, non a caso, Che belle tette. Che belle tette, sfere perfette, gemme tenere, perle eccelse, stelle etere e leggere. Che belle menne, né tedeschi né greghi, né berberi né ebri, veneti. Che pere, presenze belle rette, sebbene ferme, strette e represse. Che mele, vere, snelle, degne, zeppe e scelte recentemente. Che benessere vederle, sempre le stesse, dense, pregne e leggermente fresche. E screscenze estese, terze, seste e belle spesse. Che bel vedere, belve tremende, serve plebe, segrete essenze settecentesche. Nel presente pesche terreni né letere, mentre nell'Eden bellezze eterne. Perché benedette? Che presepe. Prenderle, prenderle grezze e tenerle per sé. Reggerle, spremerle, vederle crescere brevemente, vederle emergere nel gregge. Premere per renderle esperte, perverse, severe e per vederle splendere. Che feste. Sembrerebbe che c'è gente per bene, credente e fedele, che se le vede, sente febbre, sente le vene fredde, sente herpes e stress. Ebbene, sente l'es che emerge, mentre precede perenne le lente pene estreme. E' l'es che deve gemere per spegnere settefremente. Ed esce herpesce. Vede hergere her serpente. E sente che deve celermente espellere. Sente che deve emettere certe creme. Sente che deve secernere del seme. Ebbene, segue. Come fare successo? Mi trovo a un pubblico parlare di tette. Di tette, oppure di seme. Ne hai un'altra? Allora, ne ho altre. Diciamo che ne ho altre quattro. Lavoro su tutte le vocali, però per una questione che non so spiegare ora, le presenterò alle prossime puntate. Di microfono pubblico, così tutti venite a rivedere. Questo è un classico modo di tirarsela, famosissimo. No, in realtà non ho... No, tranquillo, tranquillo, sappiamo. C'è il produttore di fuori. Ma lui in realtà adesso deve andare a fare delle prove di teatro, giusto? Sì, sì, sì. Quindi devo scappare. Devi scappare. Un altro applauso. L'ultima dalla metà alla fine. L'ultima parte. No, posso, casomai, anticipare un breve incipit della prossima, che reciterò la volta dopo, che è la poesia monovocalica con la I, che si intitola Bimbi Tristi. Un breve incipit è... Bimbi Tristi, in bichini striminziti. Bimbi Stitici, in slip leasy. Bimbi Timidi, in kilt rifiniti in bimini. E alla prossima. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.